Ciao a tutti i pasticci, eccomi qua con un nuovo video! Allora, questo qua sarà il video sui prodotti finiti, ovvero tutti quei prodotti che ho finito nell'ultimo periodo perché ormai non tengo più i conti del mese, quando la borsa è la vedo abbastanza piena, prodotti finiti, power! Allora, il primo prodotto che vi mostro è questo bagnoschiuma qua, Dermomed, nutriente senza parabeni, frangipane e pesca bianca Addovo, come dice la Luffina ragazze, cioè mi piace tantissimo quella ragazza lì, l'adoro Sono 500 ml e l'avevo pagata a 99 centesimi, infatti poi quando sono tornata da Tigotà, perché l'avevo trovata da Tigotà non ho ripreso un altro che utilizzo per la palestra, è questo qua, è 500 ml per 99 centesimi, stra stra buono e ve lo consiglio, mi piace un sacco, mi è piaciuto davvero tantissimo, però lo sapete che non sono costante con i bagnoschiuma qualora costa meno compro Altro prodotto che ho finito è questo shampoo fortificante dei Provenzali Biologico Mi è piaciuto anche questo, molto 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 Più che altro non comodore, perché il comodore fa cagare È insentibile, mi ricorda il succo Il succo del succo ace, avete presente? O quale secondo me? Chissà di cosa mi fumo per sentire l'ace qua dentro Comunque sapete, Provenzali Biologico, non testa sugli animali, quindi 100% d'origine nature Senza schifezze varie, mi piaceva tantissimo perché teneva un sacco puliti i capelli Ora non sto utilizzando un altro biologico da 500 ml che mi piace tantissimo e costa 3 euro Quindi ve ne parlerò assolutamente nei prodotti promossi e bocciati Madonna se mi impappino Fatto sta che nonostante tutto mi avvicino un attimo Madonna sono troppo adesso Scusate Fatto sta che questo qua mi è piaciuto comunque tantissimo Quindi stra promosso anche Provenzali Lo ricomprerei Questo se costa ancora 99 centesimi, sì Questo qua dipende un po' dal prezzo perché non penso di ricomprarlo Perché comunque ho trovato un valido sostituto E ne contiene tipo il doppio E quindi mi ci trovo ugualmente bene Però se capitasse sì potrei anche ricomprarlo Ho finito, vabbè, questo qua che avevo trovato nella tinta Nectra Color, mi piaceva tantissimo Più che altro per l'odore Mi piaceva tantissimo, davvero per l'odore Ma mi appisattiva tantissimo i capelli Poi ho finito questo bagno schiuma Che è fuoriuscito Alla vaniglia Di Sephora, questi qua C'è, oddio, classico, buono, molto dolce come sapore E ci piace Ho finito questo qua per i capelli della Pantene Che è tipo un oglietto Mi è piaciuto nel senso che Li ammorbidiva tantissimo Però vorrei passare a qualcosa di un po' più nutriente per i capelli Vorrei comprarmi, una volta finito tutti i miei prodotti per i capelli Che sto usando, la Fito 9 Fatemi sapere se voi vi trovate bene Se l'avete provata Perché sarei davvero molto molto tentata a comprarla E se è meglio la Fito 7, la Fito 9 Fatemelo sapere qua sotto nei commentini Comunque, fatto sta che questa qua costata 6 euro Sono 100 ml Ammorbidisce, sì, il capello Però secondo me lo nutre proprio come i cavoli a merenda Cioè, magari nutrono i cavoli a merenda Fatto sta che comunque Secondo me non nutriva niente Ammorbidiva e basta Poi ho finito un altro campioncino Questa qua della linea Refat Refan She Karité Era il Karité Ma secondo me sapeva di cacao Ma tantissimo anche Era un campioncino Sì, non mi è dispiaciuto Però non lo ricomprerei Perché so che i prezzi di Refan Sono molto molto elevati Ho finito questa spuma qua Che sapete che Ad ovo Ancora come dice la Luffina Mi piace tantissimo Perché Teneva sul capello Faceva mantenere il riccio Dava un profumo buonissimo al capello Però non la ricompro Perché mi hanno detto che Comunque A parte l'inci Che fa schifo Le schiume Appesantiscono Sia troppo il capello Ma Come si dice Non lo lasciano nemmeno respirare Cioè E quindi Ho deciso di non comprare più Schiume per i capelli Butto cestino Questo Questo fondotinta qui di Stila In One Step Perché Ormai è morto Non l'ho mai utilizzato Perché non mi è mai piaciuto Poi Non sapevo di averla neanche Ah si 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 Ho finito questa crema a mani Qui Della Vereda C'è un gambioncino Di 1,5 ml Non sapevo neanche Cosa significasse E poi ho finito Questa crema al limone Dell'erbolario Una crema a mani Sapeva tantissimo di limone Ma non ricomprerei assolutamente Ho finito Ho finito questo smaltino qua Di Essence Ed è il 98 Gold Fever Carino Però sapete che Non sono davvero un amante Dei glitter Nel senso che Per toglierli Ci voleva la vita eterna Quindi non voglio più Ricomprare Uno smalto Con il glitter Ho finito Poi ben due Anzi sarebbero tre Però vabbè Di questi Burro cacao Della Dove Mi sono piaciuti tantissimi E' come se li divorassi Ne tengo uno sul comodino Uno lo tengo nel giubbotto Uno lo tengo in oltre pochettina E Cioè Vanno via come il pane Meno male che ne ho un rifornimento Tipo illimitato E mi piacciono un sacco Quindi si Poi ho finito Due mascara Uno è il Big Eyes Di Maybelline Penso di Maybelline Sì E l'altro è il Rimmel Lo Scandalize Rocking Curves Di appunto Rimmel Questo qua Col packaging rosso Mi ha fatto schifo Cioè Senza una base sotto Faceva pietà Non dava alcun tipo di Effetto E Altra cosa Che era Pessima E' lo scovolino Cioè ragazzi E' enorme Non sto scherzando Vada Cioè Era molto Ma molto più grande Del mio occhio Guardate Può essere Una cosa del genere Cioè No E quindi Vi sporcavate sicuro Anche se facevate attenzione Quindi non lo ricomprerei Assolutamente Perché reputo Di mascara Prenditi anche di essence Molto molto più validi Esempio I love extreme Di qualsiasi colorazione Sia rosa che nero E l'altro Sì carino l'idea Del ciglia inferiori E ciglia superiori Perché aveva lo scovolino Per le ciglia inferiori Che era un po' più piccino E lo scovolino Delle ciglia Superiori Ma anche qui Non è che mi piacesse Più di tanto Non è che facesse Chissà quale effetto Quindi Oddio Scusatemi Quindi Non lo ricomprerei Per il semplice motivo Che esistono Mascare migliori A un prezzo Molto più vantaggioso Ho finito Questo qua Il mio amato Mascara Questo qua Ristrutturante Della Sant'Angelica Adorato tantissimo A livelli Esorbitanti Ne ho anche questo Una scorta Abbastanza Eh E sì Ve lo consiglio E Io lo utilizzo Come primer Prima del mascara E Mi piace Tantissimo Poi Ultimo prodotto Makeup Che ho finito È stato un blush Della linea Silky Touch Blush Di Essence Quindi È il secondo Che termino Ed è il 20 Baby Doll Ora sto usando Il blush Della Just Cosmetics Che mi piace Tantissimo Non pensavo fosse Così pigmentato Quindi è molto Molto buono Però Ve ne parlerò Anche questo In un prossimo video E E poi Niente Ho finito Dei campioncini Di profumo Come il Guess Seductive Di Appunto Di Guess Anche questo Non male E poi Basta Sì Niente Questi qua ragazzi Erano tutti i prodotti Che ho finito Nell'ultimo periodo Spero che il video Vi sia piaciuto In tal caso Fatemelo sapere Con un bellissimo Thumbs up Ovvero Un pollice in su Niente Scrivetemi Anche quali sono I vostri Prodotti Finiti Dell'ultimo periodo E Fatemi sapere Riguardo La Fito 7 La Fito 9 Quale è migliore Delle due Quale Avete provato E quale Mi consigliate Niente Io vi lascio Al prossimo video E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Ciao